Musica Avevano rubato un'auto dal cortile di un'abitazione a Bibbiena per poi darsi alla fuga, ma la loro corsa è terminata a pochi chilometri dopo alle porte di Ortignano-Raggiolo, in Casentino, dove si sono schiantati violentemente contro il terrapieno, probabilmente a causa del maltempo. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, di cui una gravemente. L'episodio è avvenuto nella sera tra giovedì e venerdì a bordo dell'auto rubata una Fiat 600, un 24enne ed un 56enne. Entrambi ero beni, presumibilmente padre e figlio, con precedenti per reati contro il patrimonio. Alla guida della vettura è il ragazzo che non ha riportato gravi lesioni. Al suo fianco il 56enne, le cui condizioni sono critiche. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente stradale. I due avrebbero perso il controllo del mezzo, finendo così fuori strada e ribaltandosi più volte. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto i due feriti dalle lamiere dell'abitacolo, i carabinieri. Il 24enne era stato portato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. È già stato dimesso e trasferito nel carcere Aretino di San Benedetto in attesa di giudizio. Gravissime invece le condizioni del 56enne romeno, trasportato in codice rosso a Siena, attualmente si trova in coma. Anche per lui è stato disposto l'arresto.